Gustare un calice di vino immersi nella splendida campagna toscana, ascoltando i più grandi artisti della musica classica internazionale. Non è un sogno, ma Melodie del Vino, il festival che dal 28 giugno all'8 luglio animerà le tenute vitivinicole della Toscana, con sei concerti di alcuni dei migliori artisti europei. Un grande festival sulla linea di quello francese, di quello di Bordeaux, Le Grand Cru Musicaux, che mette insieme davvero il patrimonio musicale con quello enogastronomico in una localizzazione di eccellenza. Questo perché Marc Laforet, che è un pianista straordinario, vincitore di numerosi premi internazionali, ha avuto l'idea che per creare un ottimo vino e per suonare un capolavoro musicale ci vuole essere un pochino, in qualche modo, la stessa sensibilità. E quindi da qui l'idea di unire queste due valenze, queste due declinazioni, per creare un prodotto culturale, enogastronomico, ma anche fortemente turistico. Il festival arriva nella nostra regione, direttamente dal territorio di Bordeaux e sarà ospitato nelle province di Firenze, Siena, Grosseto e Livorno, grazie alla generosità dei proprietari delle varie tenute, la famiglia Principi Corzini, la famiglia Mariani, la famiglia Zonin e la famiglia Ferri Grazzini. Le serate uniranno le esibizioni musicali alle degustazioni dei vini tipici del territorio. C'è un progetto che ha cominciato circa 10 anni nella regione di Bordeaux, in Francia. È un progetto che è cominciato 10 anni fa nella regione di Bordeaux, in Francia. E che riposa su un'allianza tra il vino, la musica e il patrimonio culturale. E in fait, sa vocazione, c'è di allier a très haut niveau tous ces éléments e permettere a beaucoup de gens di découvrir due regioni merveilleuses, che ce soit la regione di Bordeaux e, maintenant, la regione di Toscana. E unire a livelli di eccellenza la regione dell'Aquitania e la regione della Toscana con dei musicisti e siti e vini di altissima qualità e livello. Grandi nomi per questa prima edizione di Melodie del Vino, come la giovane pianista russa Julian Avdeva, che si esibirà il 28 giugno al Teatro Verdi di Firenze, o il violinista Sergei Krilov, che il 1 luglio suonerà nella tenuta alle corti di San Casciano, Val di Pesa. O ancora il chitarrista Emmanuel Rosfelder, con il concerto del 6 luglio al Castello Banfi di Montalcino. Oui, tout à fait. Mon ami Marc Laforet, qui est le directeur artistique du festival, lorsqu'il a proposé aux artistes de venir sur le festival, il n'a eu que des réactions entusiastes, non seulement parce que c'est la première édition d'un nouvel événement, mais aussi pour les paysages de Toscana et pour les lieux merveilleux qui seront proposés pour le public. Les artistes, quand ils ont été invités par le maestro Marc Laforet à participer à ce festival, ont accepté avec grand'entusiasme, surtout aussi l'idée d'être présents dans les lieux comme splendides, merveilleux, magiques, qui seront ceux qui nous ospiteront durant ce festival.